Ciao a tutti, buonasera, qui stasera mettiamo il treppiede e lavoriamo tutte e due perché qui sennò facciamo mezzanotte, faremo già mezzanotte, muovi quel sederino lì e prendi solo tappate contro gli alberi, mamma mia ho preso una legnata contro un ramo di un albero, oh signore, andare a fare una consegna, ne ha fatte tre tra cui una si è presa una tragnata contro l'albero, allora lei sta preparando un bouquet di tulipani misti, io preparo un bouquet con la camomilla e i tulipani invece, un piccolo bucherino con intorno alla camomilla e dei tulipani al centro, allora vediamo, 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 magari ci sentite poco perché è un po' distante, bisogna alzare la voce, ci fate compagnia, ci fate compagnia, non possiamo rispondervi però eh, al limite quando finiamo un bouquet possiamo leggere qualche messaggio, voi scrivete, state qui a farci compagnia, rompetevi le scatole anche voi, vuoi un po' di cosa? ragazzi ci stiamo inventando i fiori, mamma mia non ci abbiamo più niente, più niente, allora uno, due, poi tre, abbiamo saltato il live Marco, abbiamo saltato il live di oggi, prima volta nella storia, potete immaginare come siamo combinati, veramente siamo combinati male, proprio male, allora questo signore qui vuole tulipani al centro, non è neanche più come si fa un bouquet, sono cotta Marco, eh anch'io, anch'io c'ho anche mal di testa, immagino, abbiamo quella trambata lì? ti sei preso una tappata non da poco eh, non ti dico che mangi testa che ho, vuoi una pastiglia? no, 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 perché sei da morto, non avessi dovuto mettere su il ghiaccio? eh, l'ho messo, sono andato a casa sotto l'acqua fredda, chissà tua suocera che risera gli acquati? no, 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 non ha riso? no, si è preoccupata? no, neanche? è sempre picciola! fatto! buche, giallo, rosso e arancio, purtroppo tutti i tulipani non li avevo, non sono arrivati, cominciano a scarseggiare i fiori, cominciano a scarseggiare le piante, purtroppo oggi pomeriggio ho dovuto, mio malgrado, mandar via a mani vuote molte persone, qualcosa arriva domani ma non so quante cose possono arrivare e quindi se dovete, quindi noi stiamo facendo tutte le commissioni se casualmente qualche buche viene leggermente variato per necessità e non per pezzo comunque lo chiamiamo eh, per forza e chiamiamo a mezzanotte quando andiamo a consegnare no, chiamiamo adesso, chiamiamo adesso c'era anch'era un po' stessa Marco, io ho scritto tutti i buche, che cosa sono io sono arrivato ora sono arrivato quindi non ho preso niente ecco qua, questo è questo è il buche di margherite di camomilla e tulipani santo uomo di mio papà, chissà dove l'ha messo vabbè ho trovato ora devo cercare la penna che è trovata che scrivo tutto perché sennò non capisco niente allora questo è a posto allora allora quelli che mancano mi devi dire e io vado a telefonare sì quelli che mancano riuscire a dire no allora metti via sì intanto io leggo io c'è un vaso per terra ma a finire che oh 36 persone oh no mannaggia allora ciao raffaella alla fine ce la fate vedere le vostre meravigliose creazioni sì hai visto ciao maria ciao angela maria bernocchi buonasera sono contenta di vedervi ciao povero marco mi spiace per la tua testa mannaggia ho preso una botta non hai idea ciao carmen grazie del caffè ciao grazia benissimo stanchi ma soddisfatti non sapete quanto tristi eravamo noi raffaella ciao carolina bello vedervi lavorare insieme carmen ciao ragazzi ma cosa fate ancora stiamo facendo tutte le consegne che non abbiamo potuto fare oggi per domani domani avremo 50 consegne forse anche di più ma certo virtualmente vi posso offrire un caffè grazie assolutamente nessun rompimento di scatole buonasera sto andando indietro a ritroso eh buonasera voi che lavorate costanza melina ciao melina ciao camila ciao melina ciao camila ciao melina ciao camila caldo è guarda cosa devo devo fare ci Con qualche gerbera? Metti di le gerbera arancioni. Non ce l'hai arancione. Te le ho messe qui sul tavolo. Ah, si. Insieme ai tuoi pali. No, non abbiamo mangiato. Ciao Donatella. No, non abbiamo mangiato, grazie. No, grazie. Siamo a digiuno. A digiuno da stamattina. Da stamattina. Ma mi aspetta una gran bella pasta con il ragù e i piselli quando vado a casa, anche se è mezzanotte. Me la mangio. Quindi... Vivo per lei. Oh, tris di rose rosse. Come te lo faccio? Nel vasetto? Già direttamente con un po' di verde? Sì, bravo. Senza legarlo né niente? Sì, gli metti viburnum, una cosa già nel vasetto, lo componi già nel bagno. Ma dove è il vasetto? Su di sopra. Vado a prenderla. Grazie. Però hai una botta sulla testa. Stai niente. Guarda, sono con le croc, guarda. Ho lasciato le scappate. Con le croc. Sì. Anche la tappata sulla testa si è presa. Io non so cosa fare con quest'uomo. Non lo so. Mi prende le tappate sulla testa. Siete posizionate in mezzo alle rose, eh? Ve lo dico già. Un botto ho preso. Ma la pianta? Ma vada via l'organo la pianta. Eh, ma poverina. Eh, ma poverina. Eh, poverina la pianta. Ma dov'è che sei andato? In un condominio? Sì. No, caspita. Ti volevi far risarcire. Eh? I danni. Ma ti giuro, mi fa un male. Mi immagino. No, è bello Bordeaux. È bello Bordeaux? Sì. No, no. È bello Bordeaux. E poi, soprattutto, sei tutto... Sai il doblo quando hai preso il panettone? Che hai fatto tutto come... No, vabbè, vabbè. Sei uguali? Vabbè. Non c'è arriva il pombo però. Non lo faccio legato. Non metti lì quella roba lì. Mettili due rami di biburnum. Due rami di biburnum? Due rami di biburnum. Due rami di biburnum. Due rami di biburnum, due rami di france e basta. Non si parla. Ah, proprio una cosa smart. Ma sì. Non ciò cavallo. Dove ne fanno si rinnovare. Si tratta. Si piora. Abbiamo il telefono di Marco che scotta? Sì. Sì, sì. Comunque non abbiamo mai lavorato così tanto, è una roba veramente domani non lo so. Siamo rimasti senza piante in negozio gente. Ho la vetrina che è una desolazione allucinante, non ci voglio neanche pensare. Non ci aspettavamo un lavoro così. Soprattutto anche in negozio è venuta tante persone. Al momento abbiamo disponibili solo le flower cube e neanche in tutti i colori. E un anturium, ma credo che sarà eletto a azalea. Perché il fiorista mi ha detto metta quello che ha, se domani la trovo gli metto un'azalea. Sì sì, ho chiamato il fiorista, gli ho detto a azalea, quello che trova. Non possiamo fare altrimenti. Voilà, va bene? Su bandera? Va benissimo. Va benissimo? Va benissimo. Ricordiamoci domani mattina di ruotare il vaso dall'acqua. e dopo le mettiamo un fiocco. Allora, ho fatto tre. Ciao Mariella, che bella seguirvi a quest'ora. Ami, anche se sarete stanchi. Buon lavoro. Sono ben zocchiari. Aspetta dietro oggi. Che fortuna. Sono qui in cantina. Aspetta un po'. Siamo stanchissimi. Che bella, che bello seguirvi a quest'ora. Sia Raffaella. Grazie. Barbara sei simpaticissima, nonostante la stanchezza. Grazie Carmen. Ecco perché sentivo un buon profumo che usciva dal cellulare. Ci scrive Raffaella. Che bello vederti. Ciao Olga. Avete bisogno di una mano? Sì Melina, ti faccio il permesso per venire giù. Bello vedere che avete ripreso a lavorare. Buona serata a voi. Ciao Paola. Ciao Paola. Avete bisogno di un bel tiramisù? Ok, grazie. Tirami su e passa a prendere grazia. Va bene anche Mari e Max. Troviamo qualcosa da fare anche a loro. Sapete che il vostro live lo aspetto come i miei figli aspettano i cartoni animati. Chi è? Raffaella. Ciao Antonella. Siete forti eh. Siete fortissimi. Tieni Mami, questo è a posto dai. Ciao Enrica. Ciao Piera. Sono contenta che abbiate così tanto lavoro perché ve lo meritate. Grazie. Grazie. Siete unici. Ciao Terry. Bravissimi. Allora. Va bene mi preparo. Bene Melina. Dai, 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 dai. Intanto su. Questo dovevo cancellare qua. Sono arrivata Melina che arriva. Comincio a aprire il flè. Cancella. Rosa stabilizzata blu. Ma scusami, queste qui cancellano. Ma sì, ma non guardarle. Rose rosse da quello lì l'abbiamo fatto. Tu cos'hai fatto adesso? Questo che cos'è? Ah, questo qui. Per l'ho detto. Allora. Un bouquet rose arancio. Arancio rosa? E rosa. Ma che te lo scrivi? Lo fai tu. Arancio e rosa insieme a me lo piace. Giriamo la pagina. Oh, un bel bouquet di fiori misti pastella. Allora, arancio e rosa. Arancio e rosa. Mmm, non mi piace. Non fai tu. Va bene? Ma è piccolino perché... Eh sì. Mettiamo. Fiori pastello metto dentro. Dei tulipani milla. No, guarda, no. L'hai ucciso. Ma si sarà rotto? No, l'hai ammazzato tu. Sì, sì. Ci sono dei tulipani gialli. Ci sono abbastanza pastello. Su. Allora. Ma porco. Si è stati divisi tutto il giorno. Allora. No, non è vero. Abbiamo fatto tutte le consegne a busto. Che casotte. Qui c'era dietro la fattura, mamma. Non l'ho vista. Allora. Arancio e rosa. Tanto stasera non c'è niente alla televisione. Ci siamo noi. Allora. Pastello. 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 Che casino, eh. Guardate che casino che c'è qua. Non amo io lavorare nel casino, ma d'altronde. Sono belle. Pastello. Sono molto. Pastello. Queste qui. Giusto? Si. Pastellissimo. Ok. Allora. Una. E poi. Mi è arrivato un messaggio sul cellulare su di sopra. Si. Io non vado a prenderlo. No, no. Chi è che mi ha mandato un messaggio sul cellulare? Sto vedendo la luce in fondo al tunnel. Si. Si. Non sappiamo cosa sia la quarantena quando era, eh. No. Ah, è arrivato un messaggio a me, un messaggio a te. Sicuramente sono i belli e simpatici. Che ci fanno vedere quello che stanno mangiando. Si, l'hai già portato. Ah, già, poi io non ho ancora guardato il cellulare. Lo sono usato per, per come navigatore. Scusatemi, eh. Ma devo scrivere tutto quello che faccio perché magari uno è da 35, uno è da 43. se no domani mattina mi tocca guardare i fiori. Invece così sono a posto. Allora, raccontami il momento che ti sei scontrato con l'altro, cosa era successo? No, perché mi sono girato indietro perché il signore ha, io avevo pigiato il pulsante per tornare fuori per aprire e lui me l'ha ripigiato, dovevo capire se avevo pigiato il pulsante sbagliato. E mi sono girato, mi sono trovato il ramo lì e sono camminando e mi sono detto rosso tutto qua. Mi sono pulito i fiori come fai tu. Sempre sotto le feste. Sempre perché sei di corsa, sei... Va bene questo piano non ce l'ho. Non sono i miei colori, ma comunque è allegro. Però se stai anche insieme... Mi sono pulito i fiori come fai tu. Eh, neanche io stavolta. Non guardate quello che stiamo facendo perché è tutto sbagliato eh. I fiori vanno puliti prima, andrebbero accorciati, ma arrivati a quest'ora... Stiamo proprio andando, come si dice, per forza di negati. Dopo le metti via tu eh. Oh, capito. Scherzi. Quello lì che cos'è? Ah, perfetto. Adesso scrivo il biglietto. Allora, vediamo... 64. Anna Maria. Ciao, buonasera ragazzi. Stella. Bevi l'acqua. Ciao, ma domani siete aperti. Domattina siamo aperti. Sì. Almeno... Almeno 100 in compagnia di voi. Grazie. Elena, Barbara, io sono appena arrivata a casa dall'ospedale. mi spiace Elena. Ciao Elena. Ciao Elena. Che bello vedervi creare bouquet come il maestro. Noi non... Addirittura. Ciao Elena. Ciao Elena. Raffaella, noi non abbiamo l'orario per tornare a casa, quindi nessun problema. Bellissime rose, dice grazia. Belle le rose che però non sono pastello. Chi l'ha scritto? Melina. Melina! Antonella, molto belle. Una bella faccina. Elena, hai ragione Barbara, nulla di bello in tv, ma voi siete bellissimi. Grazie. Adesso vengo lì. Ok, allora ci vediamo domani mattina. Stella, ciao Stella. Allora, ti aspettiamo. Troverai... Noi cerchiamo di fare il possibile di riassortire il negozio, ma veramente ci siamo trovati spiazzati per la mole di lavoro che ci è arrivata. Quindi... Comunque domattina sicuramente qualcosa trovi, eh? Ok? Noi di sicuro. Uno di noi di sicuro. No, scherzo. Dai, dimmi qualcos'altro Barbara. Ah, c'è lì la lista. Non so che c'è lì la lista. No, siccome... Non so come... Quanto qui lo cancello allora, comunque... Aspetta, quelle lì le cancello io. Gira... Gira la pagina. Qui sono fatti tutti, quindi? Sì. Gira la pagina. Gira la pagina. Poi ci sono tutti questi ancora. Oh mamma signora. Dai! È solo... Anche. Eh ragazzo, tu continui a stampare ordini, io continuo a mettere in lista, eh? Non è che... Oggi mandiamo i fiori virtuali. Poi... Questo cos'è? Un 9? 18. Se fiori misti il pastello... 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 Quindi per me... È pastello... Giusto? E... E... Poi basta, cosa gli vuoi mettere? Mettigli della violaciocca... Mettigli una peonia che quando si aprirà è quello rosa bello tenue al centro... Che qualcosa è intorno... Del bigurno... Delle roselline... Lo fai piccolino... Ma molto carino... Quelli lì mi servono tutte e due... Io lo so, ma li appoggio qua perchè... Se no c'è un nello grosso... Allora... Come... Bouchet... Allora... Bouchet... Fiori... Pastello... Ok... E questo è a posto... Poi... Quello lì è... Roselline... Rose... Aranjo... Roselline... Aranjo... Rosa... Il pastello... Ok... Perfetto... Tu adesso fai quello lì... Il pastello... E questa pagina l'abbiamo finita... Marco... Va che comincia a metterli per terra... Sì... Perché lì ho paura di bagnare le scatole... Uno... Dimmi amore... No... Non è finita... Quei due buchet che dovevo fare io... Lì si è cancellato... Sì sì... Ho già buttato via il foglio... 18... Barbara... Sei benzinata bene... Scusate... Ha ragione Melina... Ehi... Anna Maria... Il prossimo buchet che ti commissionerò... E ci sarà di sicuro... Lo voglio fatto da Barbara... Grazie Elena... Va bene... Mi fa piacere... Anna Maria... Cioè... Sono Rosa Pastello... Credimi... Forse è il telefonino che ve lo fa vedere diverso... Ma sono Rosa Pastello... Accidenti... Cos'è che sono... Ok... Bene... Ti dice Stella... Buon lavoro... Ma quanto vi manca? Questa sera crollerete... Melina... Ieri sera abbiamo fatto la stessa cosa... Domani sarà una giornata allucinante... E non riesco a dormire la notte... Forse perché sono un po' agitata... Ho paura di non farcela... E quindi sono... Non dormo... Quindi scrollerò... Penso domani pomeriggio... Quando finiamo tutto... Vado a casa... Vado a letto... Non mi sboglierò più... Fino a lunedì... Perché mi rilasso... Sì... A domani pomeriggio... Barbara... Ci siamo per nessuno... Eh... Troppo... Sì sì... Pastello... Braaa... Melina... Maestro è bravissimo... Ma anche Barbara... Dio li fa... E poi li accoppia... O li accoppa... Li accoppa... Secondo... Eh... Non so eh... Meglio non contraddire... Stasera Barbara... Perché è in pista... E l'era... Domani mattina... Sette... Siamo in macchina... Verso... Eh... La rifornitura... Delle piante... Quindi penso... Per le otto... Siamo qua... Alle sette... Dovremmo già essere là... Vabbè... Sei e mezza... Siamo in piedi... Se Tobi si alza... Ok... Allora... Questo è quello... Piccolo... Sì... Così ne metto dentro due... In un mastello... Questo è un faxiflore... Sì... Mamma... Come si sta gonfiando... Si sta gonfiando... Si sta gonfiando? Speriamo... Se sfoga l'ematoma... No... Eh... Se sfoga l'ematoma... Si è meglio... Eh... Ho preso una bella volta... Stasera... Dovevi metterlo su... Quando sei andato a casa... Eh... Lo so... Allora... Eh... Quell'altro... Dunque... Facciamo sempre di roselline... Marco... Eh... Ricordami che metto dentro due bouquet in un vaso... Perché se no domani mattina divento matta la pappa... Che non ne trovo due... Speriamo di ricordare... I biglietti sono dentro... Sia da una parte... I girassoli li devi usare per qualcuno? Che cosa? I girassoli? Eh... Guarda la lista che c'è lì... No... Ce ne sono due di girassoli... Mi sembra che avevo via... Ho già un mazzo di fiori con dei girassoli... Allora te li lascio lì... No, no... Aspetta... No... Se non sono richiesti esplicitamente... I girassoli vanno centellinati eh... Però ti dico... Nostalgia estiva... Misto... Orchidea... Girasoli... Sono girassolide... Non ne ho neanche uno... Questa va chiamata... Rose rosse... Gigli bianchi... Ce l'ho... Fiori misti... Giallo arancio... Arancio... C'ho qualcosa... Giallo... Non ne ho niente... Anturium... Buche misto... Calle girassoli... Quello che vogliamo... Quindi... Nostalgia estiva... Se vuoi... No vabbè... Lasciamelo lì... Che faccio... Calle girassoli... Nostalgia estiva... Metti qualcosa di... Tu cosa stai facendo? Quell'altro... Che mi hai dato la fame... Il 24... Pastello... L'ho già fatto io... Allora... L'arrivo... L'ho già fatto io... Vedi che hai strappato... Adesso... Il bouquet... Nostalgia estiva... Da 30 euro... E io faccio un bouquet... Di fiori misti... E io da 25 euro... Allora... Non abbiamo più... Assortimento... Eh no... Dobbiamo andare a chiamare... Modifichiamo gli ordini... No... Non si può... Non si può fare... Si può fare... Si può fare... Si può fare... Allora... Quanto è quello che mi hai dato a fare... No... 30... Uh-huh... Allora... 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 Cosa ti serviva a fare questo che mi hai detto di non usarlo? Cosa? No... Basta... Già fatti... Allora... Mette peorne quando fioriscono? Eh... Sono bellissime... Sono meravigliose... Non si metterne solo una... Ma quando si apre... Sì... Lo posso mettere? Mi mettiamo una pezza e non ho messo la tua testa... Ti fa male? No... Dico... Eh... Sì... Meglio che niente... Va bene anche la pezza bagnata... Cavolo... In casa avevo quegli affari lì che uso... Se sei stacco... Eh... Pausa... Non andiamo avanti... Dobbiamo ancora sistemare tutti gli odi... Non ne fai... Oh, è... Nascosto a di ruscus è finita? Tu m'ha fatto il papa? C'è? Eh... Ovvero... Sì... E basta ruscus... Finito il rusco basta, ci allineiamo, lo ti devo dire. Allora? Ah, scusateci eh. Ci stiamo spegnendo. Perché c'è il sonoro che sentivamo che potevamo parlare senza leggere? Adesso vai a mettere giù quello proprio. Sto pensando cosa darti di freddo da mettere in testa. Qui non abbiamo proprio un tipo. Ecco qua, va bene. Sì, è proprio una nostalgia attiva. Saranno le margheritine. Ok. Poggialo per terra e mettici dentro questo. Perché qui adesso man mano si fiede sui vasi e le recupero. Non ho più vasi. Ah no, guarda, uno è qua. Ok. Buon, dai. Allora ciao, vediamo un po' i messaggi e poi chiudiamo la live perché... Sì. Ti uccidono. In 51 sono qui. No, non chiudiamo la live. Raffaella. Quando ero piccola la mia nonna quando batteva la testa me la segnava facendo una croce con la lama del coltello messa di piatto. È vero. Comunque è da bello vedervi lavorare insieme. Siete davvero una grande bella coppia. Grazie Mary Grace. Ciao Mary Grace. Ciao. Dunque la spugna imbevuta è fresca, un po' ingombrante. È vero. Ma adesso quando vado a casa mi metto sul... La spugna. La spugna. Il coso del ghiaccio. Eh sì. Ma ti sta salendo anche qua sopra però eh. Eh bambara cosa devo farci? No, niente. Eh? A casa dovrei avere... Ma il lasovil con le cose lì mi vanno a essere... Devo ottenermi una pezza ma poi si fa, devo lavorare, beh, non si può. No dai, poi pare brutto vederti su internet con la patacca sulla fronte. Dai, chi si collega adesso sembra Grace Anatomy. Cosa mi sto mettendo? Sì, è il mio, quello che sto cercando di iniziare a fare. Rose rosse e gili bianchi? Sì, gili bianchi. Iniziamo a fare quello che possiamo fare. Esatto. Anturium e... eh, cesto di piante. No, quello è un cesto di piante, via. Cube, media. E quella... La flava è più... Poi rose rosse e gili bianchi. 28. Sì. 3 gili bianchi. Questo qui l'hai già fatto tu. E quello che vogliamo, l'alzalea cancellata. Dai, l'hai già cancellato tre ore. Siamo addirittura d'arrivo, Bandera. Non mi cedere adesso, vai. Dopo andiamo a casa, ci facciamo una doccetta. Pasta asciutta. Allora, tre argini bianchi e facciamo tre rose. Ma che ore sono? Giusto questa qui. Sono le 9. Le 9. Le 9? Sì. Non ho credito che mangierò. A mezz'ora, sì. A mezz'ora quando la... Se non mi bastano i vasi, va ancora il gruppo di fiori dentro... chiunque tu sia cosa vuoi è un messaggio dove è la mia straccia? quello tutto sotto lì vicino alla scopa è inbevuto di trovo? è sotto a casa mia è sotto guarda che sei sotto Maria Teondo questo è un bouquet picasso ho scelto che è un bouquet picasso ho scelto ho scelto per me è numero uno altro che il maestro guarda che è infortunato vale finito neanche amore mio ti posso dire mamma mia scusi eh siccome gli ho buttato via tutti i forbici nell'immondizia involontariamente adesso si campa con uno secondo te lo faccio apposta? capita cadenello rudo e non mi accordo tengo Bamba ho letto lì Gerbera Salta insieme alle altre gerbere Ok Ho recuperato un vaso Via Ho nuovi orizzonti Io ho seguito il tuo consiglio Ho messo tutti i bigliettini Ma tanto domani mattina farò un gran casino Tutto sentoso già Non puoi far casino Se le hai distinti bene Scusa Sì le ho gestiti benissimo Se le hai distinti Ah le ho distinti La sua coccardina 47 persone Ciao Elisabetta Comunque davvero bello vedervi lavorare insieme Siete davvero una gran bella coppia E bis Quando ero piccola mia nonna Ah ma qua sono tornati indietro Bagna con acqua fedda Barbara fa l'infermiera Dopo Orchidea Orchidea 40 E quella è un'altra pianta Sì 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 Cancella Vi sento stanchi Elisabetta manca poco Ma strisciamo a terra Dai vai subito a casa Una busta di surgelati E passa Dai un bel minestrone Sulla fronte Bella la scritta Sulla maglietta Lupo di mare Fagli vedere Per quello Che ha preso una trambata Da un legno Perché non è un lupo di montagna Ma guarda la Barbara Che brava Grazie Mary Grace Mi ricordate quando avevo l'attività Non avevo mai orari Io faccio il bouquet colori teni Da 80 euro Bravo Che belle le gerbere Ciao Dani Attivissimi i nostri amici Un po' di musica in sottofondo Ma poi non Ci bannano Su Facebook Non siete Come siete silenziosi Super concentrati Eh sì Ci mettiamo la musica poi Live Allora Piera Domani Entro le prime ore del pomeriggio Tutti questi lavori Andranno consegnati Quindi domani mattina Molto presto Comincerò a impacchettarli Bravissima Grazie Stasera ammiazzate il morale E a pennello Siete arrivati Ciao Elena Ti siamo vicini Grazie Piera Bellissimo Barbara Che bello Barbara Complimenti Barbara E vai Ti sto battendo Brava Barbara Bello il bouquet Dani Basta Non vale più niente Ciao Raffaella Ci ha messo che siamo bravissimi Tutti e due Ma è giusto per farti contenta Eh sì Buonasera per domani avrai bisogno Una composizione di fiori E questo È un messaggio subliminale Quanti mazzi di fiori Abbiamo confezionato Ci scrive Maria di Nuno Eh Bella domanda Credo che tra Sono di consegne Penso oggi avremmo fatto 50 consegne Sì E domani è freddante E domani è freddante Quindi credo Un cento Più la gente In negozio Un cento mazzi di fiori Li abbiamo fatti Sì Solo di consegne Altro che corso Poi dopo abbiamo Ovviamente Quelli in negozio Sì Però quelli in negozio Più che altro Hanno ordinato E passano domani A ritirare Sì Però Voglio dire Ci sono anche loro Allora Adesso mettiamo Un po' di rose bianche Allora Una Due Tre Quattro Cinque rose bianche Per me riusciamo a far su tutto Poi gli metto Tre anturio Vado là Poi Gli mettiamo Qualche rosa Rosa Cinque Cinque rose rosa E gli metto Qualche peogna Allora Facciamo un po' il contro Ritira E ritira Ok Questi due Qui Questi due buche Qui Li faccio io E metto su Ritira Ok Li tengo da parte I due buche Che ritirano domani mattina Di confezione Li metto da parte Così Tutto su Ritira E il prezzo Che è 1,25 1,30 Ok Ok Mi stai fregando Tutti i fiori Perché? Eh Non può dire Che vogliamo Il messo Cari Girasoli Vabbè Cerchiamo proprio Nel limite Di accontentare La mente Tutti Ma È stata Una festa Della mamma Oltre Ogni Aspettativa Allora Allora Vediamo un po' Viola ciò Che ce n'è ancora? No Quindi ci sono solo Rose e gerbere Io direi Che faccio un misto Rose e gerbere Tu cosa dici? Eh? E qualche lisianthus Mi cascano anche i pantaloni Allora E poi Vi viene a chiamare Rose e gerbere Solo Perché ciò Le cose che proprio Non è per forza Chiamate Uh-huh Non c'ha le mie Rose e pastello Va Non c'ha le mie Siamo silenziosi Sì Marco Ogni tanto Mi perdo via Scusami Porta pazienza È sempre così Comunque In tutti i lavori Quando stai per arrivare Alla fine Chissà perché Sembra che rallenti Non so Se è una percezione Mia No no O se proprio Il fatto che sei arrivato Alla fine Che quindi Ti fermi E ti fermi E ti fermi Comunque siamo Siamo un po' Incasinati Perché non possiamo contare sui nostri aiuti, sul nostro amico che ci fa sempre le consegne. Siamo veramente molto incasinati per quello. Frecci e Marco non ce n'è più? Che bello quello lì con gli alturium. Fai vedere, fai vedere, fa vedere le nostre signore. Fai vedere, fai vedere, fai vedere. Ma scusi, ma scusi, le rose arancio, allora non le tenga lì davanti a lei. La persona che magari alle servirebbero queste roselline arancio, nel prossimo bucchè, ad esempio, questo per la festa della mamma lo faccio rosso-rosa e bianco, per una bella mamma. Ho scritto tanti bellissimi bigliettini. Bravi. E poi noto che le persone sono molto attente, eh? I signori che sono venuti dentro oggi in negozio si sono disinfettati le mani, hanno mantenuto le distanze, aspettavano che il cliente dentro uscisse per entrare quello dopo. Veramente, veramente, grazie e complimenti perché è bello avere delle persone che... Bello? Grazie. Ah, parli del bucchè, è bellissimo quello che lì, è bellissimo. Allora, mi servirebbe solamente un paio di raglie fervi. Scusate, ma quella roba lì non è tanca in gola. Ecco qua. Prego, sono 15 euro. Ficcavolo. Bellissimo, veramente. Allora, colori tenui. vuole un fiocco importante, eh? Bellissimo, anturium, peoni, rose bianche, violaciocca, il viburnum che è uno spettacolo. Sì, mettilo al posto. Sì, mettilo per te, amore mio. Le, 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 ti appena. Allora, dammi la lista di quelli che devo andare a chiamare, dai. Guarda un po' tu cosa c'è, i girassoli, sì, il bucchè misto mi arrangio, giallo e arancio, guarda, tre roselline, è il giallo che mi manca. Faccio il giallo, non sopporti niente. Ecco, allora devi chiamare il giallo arancione e il girassoli. Però il girassoli non l'avevi già sentita? Ve l'ho andato a vedere l'ordine, non so, scusami. Poi vi è finito? No. Così ancora? Eh? Un bucchè da tenta che ritirano e un raggio di sole. Questo raggio di sole, guarda, ci può arrivare al raggio di luna adesso, più che il raggio di sole. Allora, 43 ancora. Quanti messaggi, mamma quanti messaggi, che meraviglia. Elena, che meraviglia Marco, grazie. Ma che bello Marco questo bianco, elegantissimo, grazie. Che bello il buco di Marco. Sì, il mazzo che stai facendo, bandera poi ce lo fa vedere da vicino, vero? Tu te l'ho fatto vedere. Quando leggo io dicono solo di me. Mamma mia Marco, ma che bel mazzo tutto bianco. Allora, adesso io prendo il cavalletto così e vi giro il... vi faccio vedere il nostro... Fregorifero con tutti i bouquet. Va di scivolare con le crocchie. Pronti, no? Qui sotto, sopra, le flower box. Adesso ve le faccio vedere da sopra. Allora, queste qui sono pronte per domattina. Ovviamente ci ho appoggiato sui nastri, ma sono così, eh? Vi faccio vedere. Ah, scusami. No, veramente scusami. Togliti. Che bastardo. Ha dato una sfida! Ecco qua. Allora, queste le rimettiamo a posto, così non si rovinano i nastri, eh? E adesso torniamo fuori. Dai, ragazzi, noi vi salutiamo, eh? O no? O vuoi stare qui ancora? Vado su io a... Eh? Facciamo ancora... andiamo avanti? Andiamo avanti. Allora, io vado su. Girasoli, quindi è quello bianco e giallo. Sì. Ma dove lo trovo io quell'ordine lì? Marco. Ci uspia, auguri. Nelle 50 consegne che ci sono da fare domani, dentro lì trovi il mazzo di girasoli. Se no, per fare prima dovresti prendere la lista delle consegne. A fianco c'è scritto, così guardi già se è zona galarate, busto, cardano, cassà, boladello, caivate. Vai. Un attimo di tregua. Mia. Questi uomini. Adesso mi si è anche ferito, figurati. Adesso ti dimmi cosa, eh? Non per essere, ma le liste delle consegne dove sarebbero? Sì. Sul tavolo, in negozio. Sì. A fermo? Sì. Buono. Sì. Sì. Dietro c'è un cestone grosso. Sì. Dovrebbero essere quelle dentro a destra, che ci sono le extra. Tutto a sinistra è solo città. A destra ci sono tutte le città fuori. Dovresti trovare anche fermo. descrittamente, oltre che abbiamo забити. Buon Natello. Buon Natello. No. So daницыo. Vorrei provare il schelzo, due. Buon Natello. Buon Natello. No, so da businessman. Buon Natello. Buon Natello. Buon Natello. Buon Natello. no, non ci siamo non ci siamo le belle girazioni erano delle aranze con altri dei veri misti e colori e quello della Paxi Flora non c'entra niente con coloro non so che cazzo avete trascritto guarda la girazione è qua la girazione è qua non ce la faccio fece facciamo gli sborcioli anche con la pece ok pronti, partenza, via siamo dai 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 su Bampano dai che ce la fai mamma mia ho fame ho sonno più fame che sono ho voglia di coccolarmi il mio cucciolino che è andato a casa grazie a tutti 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 i fiori tutti chiusi fanno poca scena si apri l'anno godrà di più la signora a casa che cosa ti ha detto che cosa ti ha detto signore facciamo rose tutto rose rose si con l'esiantus vedo ok un po' di i figurno le rose bianche e la l'ordine è proprio tutto di rasoli non lo scrivo è già scritto sull'ordine sull'ordine e sulla lista perfetto questo e questo è fatto meno male meno male non ho preso altre ordinazioni perché se no era una nulla popò adesso ti suonava il telefono ma non so chi hai appoggiato in giro qualche buche da mettere in acqua no adesso facciamo un maschelletto perché erano più vasi ritorniamo il punto di partenza allora un bel raggio di sole così strappo anche questo raggio di sole raggio di sole dunque calle girasoli misto giallo arancio ti devo tenere le roselline arancioni allora raggio di sole mettiamo del bianco lo facciamo un po' smutto il raggio di sole no va chiamata però ma non si può o io lo dici non non si può andare a la gente alle 10 alla sera in casa guardi non posso farlo neanche perché ti prendi un comodo e fa povere no a me mi ha ringraziato sì no è piacevole che gli dici però è anche un'ora parecchio avanti beh dai non sono sono le 11 o mezzanotte allora devi chiamare questa qui sentire come lo vuole guarda nel periodo dove l'avete messo io a mezzanotte a mezzanotte Puoi finire di lasciare perdere e finisco domani mattina? No, dico di quante ce ne sono. Non lo so. Adesso te lo dico. Allora, ce ne è uno, due, tre, quattro. Ho preso questi che stiamo facendo? No, questi qui sono fuori. Un cartello? Un cartello. Scusami. L'ho preso tutti domani? Sì. Sei ferito, non si può neanche stare qui a... Hai ferito. Hai ferito. Non c'è di ritardo. Glielo faccio più ricco, dai. Non l'accontento alla signora, ma glielo faccio più ricco. Almeno che glielo faccia tutto bianco, gli metto una bella carta gialla. cosa dici? Forse. E' più raggio di sole. E' più raggio di sole. Ah, dammi un po' di margheritine, va, che fanno tanto raggio di sole. Oglielo. Ma, 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 buon poco. Il primo. Miro. Mil bianco. Miro bianco. Bellissime, carissime, carissime più che altro, io gliele metto dentro, questa così la contento, è giustamente una legge a soli, guarda, sono già un po', no? Abbiamo dato un po' più, anche, essere elastici. Domani, chi viene, rose, rose rosse, rose arancio, rose bianche, lisianthus, io la ciocca, no, bocca, bocca di leone, bocca di leone è troppo lunga, sono tutti buchelli, la bocca di leone non la speli per metà, che è un dispiacere, e, no, io tre le ho usate pelando, le manco, perché bianco e rogno non voleva. Vabbè, si diceva. Meglio del me. Dai, 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 su, 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 forza, tieni duro, vabbè, non mollare adesso, tieni duro, dai, che squadra, che vince e non perde, com'è che è? Che squadra che vince non si cambia, se vince non perde, se vince non perde, se vince non perde, vabbè, insomma, avete capito quello che volevo dire? Sempre star lì a mettere i puntini sulle i, qualche volta mettiamole anche sulle e. Allora, ciao, dai. Quando è che mi porti al mare? L'anno prossimo. No, appena aprono le gabbie io scappo, eh. No, 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 non mi interessa. A gennaio, febbraio, settembre, novembre, qualche cavolo di periodo è, appena posso andare al mare vado, cavolo. Ti mando una cartolina. Io, Tobiscus, il mio amore, non c'è niente di più bello del mare, non possono vietarmi di andare al mare, io divento nevrastenica. Mi prontano la pancia, se sentite non è il temporale alla mia pancia. Non ce la sento. La senti? La senti? Ecco qua, anche questo. Ma tu, tu, ma tu vai a prendere i migliori, a me mi dai i miraci i più piccoli perché sono i più simpatici. Ora vi faccio un raggio di sole. All'inizio il raggio di sole c'era anche del giallo, poi il giallo finì. E il raggio di sole si spense un pochetto, diventando un bellissimo bianco. Allora, cosa mettiamo bene? Non dare le spalle alle signore. No, non dare le spalle. Guarda vedere il mio bernoccolo. No, mamma mia. Lo diranno al telegiornale domani mattina. Bandea, ferito da un ramo. Mamma mia. Sì, è una bella borsa. Ma no, Marco, cosa vuoi che ti succeda? Ti verrà magari un po' di mal di testa. Se ci sia un'emoragia. Un'emoragia. Se ti senti fuori dal pronto soccorso. No, scherzo. L'importante è che ti butti fuori la botta. E se ti senti qualcosa stanotte mi segni e ti porto al pronto soccorso. In questo periodo in ospedale meglio non andare. Sì, perché entri con un bernoccolo e puoi uscire col corona. Sì, appunto. Beh, la bella corona ti nasconde il bernoccolo. Allora. Dai, ragazzi, spegniamo sto sto. No, dai, perché sennò... Sì, no. Siamo diventati... Ok, dai, ragazzi, veramente adesso siamo alla frutta. Noi vi salutiamo. Allora, Mary Grace, emoragia? No, trauma cranico al massimo. Ma non credo, Marco, dai. Grazie, Mary Grace. Fai l'infermiera? Sei un'infermiera? Ma perché hai le mani più piccoline? Perché hai le mani più piccoline, Barbara? Ah, sì, è vero. Ha ragione. Protesta, Barbara. Perché? Non lo so. No, vabbè, squadra che vince non perde. Questo te lo porti finché capi. Chi è che l'ha scritto? Mary Grace. Mary Grace. Per viaggia. Dai, forza, ragazzi. Elena, sono belle quelle daglie. Sì, molto belle. Siete proprio cotti, sì. Che fiori hai messo con le rose? Astromerie e... No, io con le rose ho messo le daglie. Sono daglie. Ma forse era il buche prima. Ah, quello che hai fatto te, eh? Prima della botta. No. Vabbè. Dai, ragazzi. Vi ringraziamo per essere state con noi. Veramente. Grazie. A me ti spiaceva non aver fatto il live. Quindi stasera... Dovrebbe non dormire e vedere se ha vomito. Buona serata. Se hai vomito... Va bene. Allora Marco, stai sveglio e guarda. Se hai vomito... No, no. Sto benone a dir la verità. Ho solo un po' non... Un fastidio lì, ovviamente, perché ho preso la botta. Beh, la botta c'è, eh. Allora. Angela Maria, buonanotte a voi. Buonanotte... Ragazzi, veramente, vi salutiamo. Grazie per essere state con noi. Mi spiace non rispondere ai vostri commenti stasera, ma credetemi. Siamo veramente cotti. Domani ci aspetta una giornata campale. Lunedì torniamo, come sempre, eh. Come nuovi. Grazie per la bellissima serata. Grazie a voi. Grazie a voi per essere stati con noi fino adesso. L'altro bigliettino, via! Ciao, Melina. Ciao, Melina. Grazie anche a te. Grazie a voi tutti per la compagnia. Siete voi che fate compagnia a noi. Dai. Andate a riposare. Dai, buona serata. Ciao, ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, ciao. Saluta Barbara. Io sono dietro le telecamere. Buonanotte. Ciao. Ciao.